Atti degli Apostoli, capitolo dodicesimo Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a quattro mute di soldati di quattro l'una, perché, dopo la Pasqua, voleva farlo comparire dinanzi al popolo Pietro, dunque, era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui Or, quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendè nella cella, e l'angelo percorso il fianco a Pietro lo svegliò, dicendo, Levati prestamente E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse, Cingiti legami dei sandali E Pietro fece così Poi gli disse, Mettiti il mantello e seguimi Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé Ed essendo usciti, si inoltrarono per una strada E in quell'istante l'angelo si partì da lui E Pietro rientrato in sé, disse Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco Dove molte fratelli stavano radunati e pregavano E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode, venne ad ascoltare E riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta E quelli le dissero, tu sei pazza Ma ella asseverava che era così Ed essi dicevano, è il suo angelo Ma Pietro continuava a picchiare E quando ebbero aperto lo videro e stupirono Ma egli fatto loro cenno con la mano che tacessero Raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione Poi disse Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli Ed essendo uscito se ne andò in un altro luogo Or fattosi giorno Vi fu non piccol turbamento fra i soldati Perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro Ed Erode cercatolo e non avendolo trovato Esaminate le guardie Comandò che fossero menate al supplizio Poi sceso di Giudea a Cesarea Vi si trattenne Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni Ma essi di pari consentimento si presentarono a lui E guadagnando il favore di Blasto e Ciambellano del re Chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re Nel giorno fissato Erode indossando l'abito reale E postosi a sedere sul trono Li arringava pubblicamente E il popolo si mise a gridare Voce d'un Dio e non d'un uomo In quell'istante Un angelo del Signore lo percosse Perché non aveva dato a Dio la gloria E morì rosò dai vermi Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più E Barnabà e Saulo Compiuta la loro missione Tornarono da Gerusalemme Prendendo seco Giovanni Soprannominato Marco Dio Dubbo Dio Soprannominato RICH